Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate. La domanda di oggi è cosa prova adesso a nostalgia di me? E andiamo subito a rispondere a queste due domandine e vediamo un attimino che cosa ci indicano le nostre beneamate Sibille. Allora come sempre vi suggerisco di non incrociare le gambe e di aprire il cuore e la mente e di dirigere fortemente il pensiero verso la persona che vi sta a cuore. Allora cominciamo subito, non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a vedere che cosa pensa adesso e se ha nostalgia. Vediamo un attimino, quindi in questo caso cari amici e cari amiche si presuppone che ci sia stata una storia che adesso come adesso si è interrotta diciamo ecco chiaramente perché altrimenti queste domande non, questa domanda, queste due domande di oggi non avrebbero un senso. Allora cosa pensa adesso a nostalgia di me? Andiamo a vedere. Che cosa? Allora è una persona che sicuramente diciamo così avete avete amato molto e anche questa persona ha amato molto molto te per cui c'è diciamo così molto chiaro dalle carte questa vibrazione cioè si è trattato di un grande amore non non certamente di una storiella superficiale o mordi e fuggi o un flerzo o cose di questo tipo ecco quindi a prescindere da quanto sia durata perché non è poi alla fine quello che conta ma che sia durata molto che o che sia durata un tempo più breve è stata molto intensa ecco quindi questo si si vede forte e chiaro dalle carte. Allora io posso dirti questo nei primi tempi questa persona nei primi tempi parlo del primo periodo nel quale siete stati distanti quindi appena dopo la rottura appena dopo la separazione questa persona ha sofferto fortemente di gelosia e di questo sentimento molto contrastato nei vostri confronti proprio perché ti ha sentita sempre molto molto sua no? E io questa cosa la vedo anche in te quindi nei primi tempi dopo l'allontanamento dopo la rottura avete sofferto molto tutti e due ecco e soprattutto di gelosia cioè la paura che c'era soprattutto nel primissimo periodo di allontanamento era proprio questa cioè il terrore di vedere lui o lei già con un'altra persona ecco perché questo avrebbe avrebbe demolito un po' diciamo quello che che era anche la tua rappresentazione di questa coppia così magica no? Così unita, così ricca di emozioni quindi questo è diciamo così il primo segnale che mi danno le carte. Per quanto riguarda adesso io adesso ho diciamo così un segnale abbastanza chiaro che è quello della cioè oltre al fatto che questa persona vi pensa e quindi già andiamo a rispondere alla prima domanda c'è il desiderio da parte di questa persona di in qualche modo rivedervi, ricontattarvi ma non per riprendere diciamo così la storia no? Per rimettersi insieme a te perché di questo avete da quello che vedo io dalle carte avete parlato molto quindi diciamo che questa è una cosa abbastanza superata ci sono create delle situazioni per cui adesso come adesso sarebbe sarebbe un pochettino fuori fuori dal mondo diciamo pensare o progettare di rimettervi assieme. Il desiderio di un ricontatto è dovuto a questo cioè al fatto che questa persona ha proprio solo il desiderio di ritornare al vostro fianco ma in modo leggero, in modo tranquillo, senza senza pretese, senza nulla, c'è questa sorta di nostalgia che ha per te ecco ma non per la coppia che eravate ecco quindi la domanda diciamo così per chiudere il cerchio la domanda era se mi pensa adesso e la risposta è cosa pensa di me adesso? Pensa che gli piacerebbe o le piacerebbe rincontrarvi magari passare un pomeriggio o una serata assieme proprio per questa piacevolezza ecco diciamo così per il piacere di condividere di nuovo del tempo con te è una cosa molto bella una cosa molto bella a parer mio che che può essere che può essere valutata ecco comunque chiudendo il cerchio rispondendo alla domanda specifica possiamo dire con chiarezza che cosa cosa pensa di me adesso la risposta è questa cioè pensa che vorrebbe rincontrarvi e poter trascorrere delle ore piacevoli con te magari a raccontare della sua vita e tu a raccontare della tua ecco c'è questo diciamo desiderio di condivisione delle delle vostre vite ecco è tutto tutto si ferma lì allora anche per oggi quindi abbiamo abbiamo terminato questa questa stesura di carte io spero che questo video in qualche modo vi sia stato d'aiuto come sempre vi invito a lasciarmi un like qui sotto mi farà molto piacere e come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao